Giocondo, parlando del mercato dell'Inter, che investimenti ti aspetti a gennaio? Ti faccio subito un nome per il centrocampo, Kulusevski, che ha fatto molto bene fino a questo momento nel Parma. Lo ritieni già un giocatore da Inter? È un giocatore importantissimo, ma sicuramente in proiezione futura. Penso che le parole di Conte siano state abbastanza chiare dopo la partita col Borussia Dortmund. Quindi le aspettative da parte dell'allenatore dell'Inter sono ben altre, nel senso che lui vorrà migliorare questa rosa già di per sé molto competitiva con giocatori di assoluto valore, con calciatori che hanno già avuto esperienza internazionale, in Champions League, che hanno vinto qualcosa per poter, ripeto, rimpolpare ma migliorarla questa squadra. Quindi le parole di Marotta sono state altrettanto chiare ed esplicite nel voler intervenire nel mercato di gennaio, ma con dei giocatori che non superano una certa età, ma che abbiano sì un'esperienza internazionale. Quindi sarà un mercato di gennaio dove difficilmente puoi trovare giocatori importantissimi che possano accettare certi trasferimenti, perché a gennaio sappiamo che non è facile spostare giocatori di assoluto valore. Però i giocatori che vorrebbe Conte sono potenzialmente in una sfera di situazione che possono arrivare all'Inter. Mi riferisco a Ematic, a Rakitic, questi giocatori, i Giraud, che sono giocatori che Conte conosce bene e che nelle rispettive squadre non hanno grande possibilità di giocare, possono eventualmente approdare alla Corte di Conte a gennaio. Parlando di Vidal e di Rakitic per il centrocampo, che probabilità dai a questi giocatori di poter arrivare all'Inter? Ripeto, non è mai facile andare a cercare questo tipo di calciatori perché hanno dei costi importanti, hanno dei contratti altrettanto onerosi, però Vidal, a differenza di Rakitic, ha più spazio nel Barcellona. Almeno fino ad oggi è quello che rispetto a Rakitic gioca di più. Quindi mi sembra una possibilità quasi più remota il fatto che possa arrivare all'Inter perché il Barcellona penso che ha bisogno di un giocatore come Vidal. Però ripeto, dipende anche dalla possibilità che ha l'Inter di poter intervenire sul mercato e se riuscirà a fare anche delle uscite perché poi è sempre il gioco delle parti, capire quanti giocatori possono uscire e eventualmente con quella possibilità tu puoi far entrare altri giocatori perché ci sono giocatori che Conte non ha quasi mai utilizzato e probabilmente non ritiene all'altezza della situazione e dovranno trovare una sistemazione. Quindi il mercato di gennaio rappresenterà per Ausilio e per Marotta anche questa possibilità di trovare delle soluzioni alternative ai trasferimenti di alcuni giocatori che hanno in rosa. Prima hai fatto il nome di Giroud, però in quest'ora si è parlato anche di Petagna per l'Inter. A tuo parere la SPAL sarebbe pronta a privarsi di un giocatore così importante? Già il mercato della SPAL quest'anno non è stato all'altezza degli anni precedenti perché io penso che è semplice, quest'anno l'ho già ripetuto qualche mese fa dovrà compiere un ennesimo e più importante successo perché la squadra si è indebolita rispetto a un anno fa quindi se dovesse dar via anche Petagna io penso che sarebbe veramente un problema molto serio per la squadra e per Semplici trovare la possibilità di salvarsi e raggiungere l'obiettivo della salvezza. Non penso che la SPAL oggi è nelle condizioni di potersi privare di un giocatore importante per la SPAL ma non so quanto importante però per l'Inter.